Ehi, salve a tutti per i ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane Oggi, ragazzi, è il grande giorno Uscirà iPhone X e vi spiego subito come vedere l'evento Attenzione, prima di iniziare il video andate su Instagram e seguitemi su Mirko-Zane Ogni giorno tante novità Allora ragazzi, intanto buona vigilia, se così possiamo dire, dell'evento Io intanto vi dico subito che l'evento inizierà alle ore 19 Ufficialmente inizia alle ore 19 Ma io sarò in diretta live su questo canale, ragazzi, su questo canale Magari vi lascio il link qui sotto in descrizione e ve lo scrivo anche qui Così da non poterlo dimenticare Sarò in diretta dalle 18 e 15 Dalle 18 e 15 fino alle ore 19 Staremo insieme, risponderò alle vostre domande Per parlare di tutto ciò che verrà presentato all'interno dell'evento Opinioni e quant'altro Se dovessero uscire ovviamente ultime novità Parleremo anche di quelle Delle immagini dell'ultimo momento che solitamente appaiono Parleremo anche di quelle Anzi, ve le mostrerò addirittura Per quanto riguarda la live, come si svolgerà? Allora, come vi dicevo, dalle 18 e 15 Fino alle ore 19 vedrete il mio faccione Vedete il mio faccione o quantomeno anche gli articoli e le notizie di cui abbiamo parlato in queste settimane Le più importanti, eccetera Dalle ore 19 fino alle ore si pensa 21 Quindi almeno due ore dovrebbe durare questo evento Il mio faccione si sposterà nell'angolino in alto a destra alto Che credo sia da qua, no, non lo so Forse da qua, non lo so Comunque si sposterà in uno dei due angolini in alto Per far spazio al centro all'evento Perché sì, nel centro, al posto del mio faccione Vedrete ovviamente il video dell'evento La streaming dell'evento in contemporanea Ovviamente con gli Stati Uniti Con una traduzione quasi simultanea e commenti live Parleremo insieme ovviamente di ciò che sta accadendo Vi spiegherò bene o male se non avrete capito tutto ciò che stanno presentando E proprio si vedrà Tim Cook sul palco Il CEO Apple Che presenta tutti i nuovi prodotti Insieme ovviamente al suo team Che sia iPhone X, che sia iPhone 8, 8 Plus L'Apple TV in 4K Il nuovo Apple Watch LTE E tanto, tanto altro ragazzi Quindi non mi resta che salutarvi Ringrazio ovviamente tutti coloro che parteciperanno Quest'anno vorrei superare ogni record mai visto Vi ringrazio anche per aver superato gli 8700 iscritti E ragazzi vi ricordo qui sotto in descrizione il link Ve lo lascio anche qui Seguitemi dalle 18.15 E ci vediamo più tardi Io come al solito ragazzi vi saluto Vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video Come al solito ripiamo a 100 mi piace per il prossimo episodio Iscrivetevi e commentate Ci vediamo al prossimo appunto Siamo qui con Mirko Per AppleZain.net E ciao Vuoi rimanere sempre aggiornato Grazie a tutti Ciao da Ciao da Ciao da Ciao da Ciao da Ciao da Ciao da